Perchè devo iniziare sempre i video in piedi? Perchè devo iniziare sempre i video in piedi? Cosa si può dire di questa partita ragazzi? Si può dire che per le urla mi son spaccato il labbro? E' possibile dirlo? Che per le urla mi son spaccato il labbro? Cioè si può dire? No, certo che si può dire Perchè non c'è niente di male Nel spaccarsi il labbro durante una partita di calcio Assolutamente no 0-0 Sampdoria-Roma ragazzi Vogliamo parlare di cosa? Di cosa? Di due tiri in porta? Di un tiro in porta di Geco Un tiro in porta di Quagliarella? Basta? Paolo Lopez e Udero Se non fosse che il senza voto Quando giochi 90 minuti non fai una sega E sei politico Altrimenti avrebbero preso realmente senza voto Come quando non entri proprio e non giochi proprio Realmente ragazzi Realmente Giusto Paolo Lopez Gli ultimi minuti ha fatto quella bella parata su Bonazzoli Ma per il resto ragazzi Una partita Boh Una partita veramente che Cioè ci si accontentava Sembrava uno 0-0 scritto Voi pensate che io ho messo Udero titolare al fantacalcio Perchè pensavo che la partita venisse rinviata Per il maltempo E tra l'altro mi è andata anche a Buccio di culo Che non mi ha preso la gola Udero Ma di cosa vogliamo parlare ragazzi Vogliamo parlare Da cosa iniziamo Vogliamo iniziare da Cristante che si fa male i primi 7 minuti Eh Un infortunio muscolare dopo 7 minuti E deve entrare Pastore a fare il mediano Perchè non ne abbiamo più Non abbiamo più centrocampisti Di cosa vogliamo parlare Di cosa Di cosa vogliamo parlare Non abbiamo più centrocampisti Non abbiamo più centrocampisti Diavara ha rotto Cristante si è rotto Questa è la maledizione Di De Rossi Cosa è stato detto Quando è stato mandato via De Rossi Perchè si rompe E poi rimaniamo senza centrocampisti Porco schifo E questa è la maledizione di De Rossi Ma dico io Ma come possiamo Giocare adesso Che ci sono praticamente 7 partite In due settimane Se con un centrocampista Di ruolo Vere tu Come possiamo giocare Con un centrocampista di ruolo Cioè Pare che se l'è tirata pure Fonseca In conferenza stampa Eh Ma se Chi può fare il mediano Eh può farlo Pastore o Santon Ma io mi devo assorbire Santon A giocare mediano Ma dove siamo arrivati Ma veramente Ma basta Poi cosa vogliamo passare A Kalinic A Kalinic che si fa male Che si fa male E siamo costretti a giocare Con un giocatore Che è convocato per miracolo Che è costretto a giocare Con una mascherina Per una doppia frattura Allo zigomo Un giocatore che non può andare di testa Un giocatore che non può andare di testa Siamo costretti a far questo noi Gieco con la mascherina Non può andare di testa Vi rendete conto Un attaccante che non può andare di testa Io divento matto Io divento matto Io divento matto Un attaccante che non può andare di testa Voi l'avete mai visto? Eh sì certo Se è un nano Non ci può andare di testa Perché non ci arriva Ma Gieco ci va di testa E noi siamo stati costretti Porco schifo A giocare con Gieco Che non può andare di testa Cosa vogliamo parlare Del fatto che Domenica prossima Abbiamo Già stiamo con le pezze al culo Poi Clivert si fa speller Quindi abbiamo un giocatore in meno Già è strano Che non si sia rotto perotti Rotto perotti Perché Già è stato Una manna dal cielo Il fatto che sia tornato perotti Io spero che torni Non mi chitarriano un der Perché veramente ragazzi Non si può Non si può Ma tra l'altro Pastore non ha manco Giocato male Ma sapete perché Non ha giocato male? Perché con sta Sampdoria Con tutto il rispetto Per la Sampdoria ragazzi Vi voglio Bene Tra virgolette Il 2010 Ce l'ho ancora qui Ma veramente ragazzi Cioè la Sampdoria Ha iniziato a giocare Oggi quando abbiamo giocato In 10 Cioè tra l'altro A momenti Ce lo metteva dentro A momenti Ma che Cioè ragazzi Forse è una delle Delle Sampdorie Più brutte Degli ultimi anni Degli ultimi anni Cioè noi non siamo stati Capaci di vincere Con questa Sampdoria Ripeto Con tutto il rispetto Per la Sampdoria Con tutto il rispetto Per la Sampdoria Che adesso è allenata Da un mister Che io amo e adoro A cui voglio un bene Dell'anima Però Cristo Santo Con questa Sampdoria Non potevi non vincere Scusatemi Scusatemi Cioè non ha vinto Chiunque Con questa Sampdoria La Sampdoria A tre punti In otto giornate Ha vinto Chiunque Ha vinto una partita sola Non si sa come Non lo so Non mi ricordo Quale partita è Ma non si può Non vincere Cioè allora Migliori in campo Assolutamente Tre In ordine Li decidete voi Nei commenti E seguitemi su Instagram Mi raccomando Veretù Mancini e Smalling Ma se proprio Devo sceglierne uno Secondo me Mancini Cioè noi non abbiamo Subito praticamente Niente Ma non perché Mancini è stato Il migliore in campo Perché ha smanacciato Chissà quali occasioni Era ovunque Ha marcato Quagliarella Uomo In una maniera Incredibile Mancini sta crescendo In una maniera Spaventosa Mancini e Smalling Insieme Mi danno sicurezza Ma tranquilli C'è paradossalmente A inizio stagione Il problema Doveva essere La fase difensiva E adesso ci ritroviamo Che il problema È che non facciamo gol Non facciamo gol Ragazzi Non facciamo gol C'è Le ultime partite Ma vi ricordate Il gol che abbiamo fatto Nelle ultime partite Gol a bucio di culo Gol a bucio di culo Gol a bucio Di culo Cioè contro il Cagliari Chi ha segnato Contro il Cagliari Che non mi ricordo Vabbè non mi ricordo Geko Non mi ricordo E con il Wolfsberg Un gol improponibile Batte in faccia Su azione Da quanto Cioè Non lo so ragazzi Veramente Io sono Veramente Senza parole Sono veramente Senza parole Perché la partita Oggi era semplicissima La Sampdora Non ha fatto niente Per metterti in difficoltà Fino all'ottantacinquesimo Fino all'ottantacinquesimo E tu non puoi Non portarti a casa Sta partita Se vuoi Lottare Per la zona Champions Assolutamente Non puoi fare Un tiro in porta Al settantottesimo Con Geko Che ci vede Come i cavalli Così Con quella maschera Non so come cacchio Abbia giocato Veramente Zagnolo Non mi è neanche piaciuto Sinceramente L'unico che mi è piaciuto E vero è tu Insieme a Mancini I due milioni in campo Assolutamente E io ripeto Se Mancini Avesse giocato Col Geno Io non lo so Se forse Avremmo Preso tre pere In quel modo lì Però Con i secoli Ma non si va avanti Lo sappiamo tutti Però ragazzi Questo è un partito Che devi vincere Assolutamente Non è possibile Ma Che poi il pareggio È giusto Non sto qui Dicendo che Abbiamo Meritato Di vincere Assolutamente Niente Non abbiamo fatto Niente Per vincere Cos'è il possesso Palla Ci abbiamo provato Sì scambi veloci La Sampdoria Si è chiusa benissimo L'ho detto nel video Di ieri Che 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 Ranieri È bravissimo A tappartele È bravissimo Ma io non lo so Ragazzi Sarà che stiamo giocando Con giocatori Che non hanno mai Giocato insieme Che non avrebbero mai Giocato Abbiamo giocato Con Florenzi Esterno Alto Che non avrebbe fatto Una partita Da esterno alto Stiamo giocando Con Spinazzola Che Che È un terzino Sinistro Anche se Dovrebbe poter Giocar bene Anche Terzino sinistro Abbiamo giocato Con Pastore Mediano Abbiamo giocato Con Gieco Con la mascherina Io non lo so Ragazzi Cioè Non Veramente Veramente Sono Incredibilmente Senza Senza parole Senza parole Perché Sono partite Che non puoi buttare Al vento Assolutamente Questa è una partita Da vincere Per le condizioni In cui era La Sampdoria Ovviamente C'è da dire anche Che le condizioni Della Roma Non è che siano Tutto sto Però ragazzi Io non lo so Pastore Non è Manco dispiaciuto Klaibert È a momenti No Fa Una partita Buona Una no Dieci minuti Buoni Dieci minuti Di merda Non lo so Zagnolo Non mi è piaciuto Quel primo tempo C'era un filtrante Facilissimo Per Kalinic Che ha sbagliato Zagnolo Sbaglia sempre La decisione finale Anche nel secondo tempo Era lì Sull'esterno Che si è fatto La solitazione In velocità E di forza Poi mi ha messo Un cross alto Inutile Per Klaibert Quando c'era Dzeko Al limite Dell'aria Che poteva Tranquillamente Stoppare il pallone Farsi un caffè Togliersi la maschera Curarsi La ferita Con una cremina Rimettersi la maschera E tirare E lì Poi Gollo non gollo È un altro discorso Ragazzi Però Veramente Certe volte Sbagliamo Nell'ultimo Passaggio Secondo tempo Mi è piaciuto Molto di più Il primo tempo È stato Veramente Di una martellata I maroni Che voi manco Immaginate Cioè Brutto Primo tempo Brutto Sbagliavamo Ogni passaggio Kolarov Che veramente Non 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 si riconosceva È riconoscibile Sbagliava I passaggi Semplici Sbagliavi Hanno sbagliato Tutti i passaggi Semplici E fortunatamente Ci siamo trovati Davanti Una Sampdoria Che non ne ha approfittato Perché se Ci fosse stata Un'altra squadra Noi sta partita Addirittura L'avremmo persa Nonostante forse Un pelino L'avremmo meritata Di vincere Però non abbiamo fatto Niente Per vincerla Niente Un tiro in porta Al 78 Un 0 a 0 Un 0 a 0 Che è giusto Così Non ho niente Altro da dire Tranne che Andiamo Tutti All'URD Perché giovedì E domenica Ci tocca Giocare Con Non so Chi Cioè Abbiamo Il migliore in campo Della Sampdoria È stato Bertolacci Bertolacci Montolivo Prendiamoci Montolivo Sul